Siamo con gli Arcei Piceni, nella terza edizione dello Sport di Sport, l'integrato è un optional, è un momento per far conoscere non solo il tiro con l'arco ma tanti sport e far sì che la gente si possa, i bambini, i ragazzi si possano divertire a fare sport. Sicuramente sì, questa è una manifestazione che già va avanti da due o tre anni, col buon Cristiano che si adopera per questa situazione, noi come tiro con l'arco nello Sport integrato siamo una delle prime federazioni che ha inserito nel nostro gruppo le persone non abili che gareggiano insieme a noi. Quindi come federazione già siamo un lustro avanti a tante altre perché per noi quello che fa sport sulla carrozzina oppure viene accompagnato sulla linea di tiro gareggia e gareggia contro quelli abili. Quindi è da tempo che la federazione italiana di tiro con l'arco ha inserito questo tipo di discorso appunto nella federazione. Quindi per noi lavorare e fare sport con disabili in queste giornate così è solo una manifestazione che ci aiuta ancora a far conoscere di più questa situazione in modo che possiamo avere anche dalla parte nostra e in questa città dove noi viviamo anche delle persone non abili che possano tirare con noi. Grazie